E' la frutta fresca a far segnare il maggior crollo dei prezzi, con un calo del 10,1% che spinge l'intero settore alimentare verso la deflazione, con una riduzione dello 0,6% rispetto allo scorso anno. E' quanto emerge da un'analisi della Col di Retti sulla base dei dati istatte relativi all'inflazione a luglio e gli effetti sul carrello della spesa dove il prezzo delle verdure scende dell'8,8%. Il calo dei prezzi degli alimentari, sottolinea la Col di Retti, è il risultato di una spirale recessiva tra deflazione e consumi, che ha costretto due famiglie su tre, il 65%, a tagliare la qualità o la quantità di almeno uno dei generi alimentari acquistati e sale al 14,4% la quota di famiglie che sceglie l'hard discount per l'acquisto di generi alimentari. Pur di non acquistare, più di 8 italiani su 10, l'81%, sono arrivati, precisa la Col di Retti, a non buttare il cibo scaduto, ma a mangiarlo, con una percentuale che è aumentata del 18% dall'inizio del 2014. Una situazione che, dopo le tasche, sta mettendo ora a rischio anche la salute dei cittadini, con i consumi di frutta e verdura che sono diminuiti di oltre il 30% rispetto agli ultimi 15 anni, per un quantitativo che nel 2014 è sceso, addirittura, ben al di sotto del chilo al giorno per famiglia. Un valore inferiore a quelli raccomandati dal Consiglio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. A Rieti le cose vanno addirittura peggio, perché le fabbriche che chiudono il tasso di disoccupazione sta raggiungendo livelli da record ed è il più alto della Regione Lazio, numeri da profondo sud.